Disponibile presso la nostra concessionaria U-Drive, la Kia Sportage 2015 1.7 diesel allestimento class con tetto panoramico. Parliamo di una vettuna demo di colore bianco utilizzata per i test drive con 1.200 km percorsi. Auto perfettamente controllata, taglia andata e con garanzia residua della casa. La Kia Sportage 2015 offre un abitacolo spazioso anche nella zona posteriore e un bagagliaio adeguato alle esigenze di una famiglia. L'abitacolo ha anche un look tecnologico, grazie allo schermo a sfioramento di 7 pollici al centro della plancia. Gestisce il sistema audio Infinity Premium Sound System con 7 altoparlanti e visualizza le immagini dell'utile delle camera posteriore. Plancia e console sono realizzate con cura. Ottima la disposizione dei comandi, lo spazio abbondante sia davanti sia sul divano. La seduta realzata favorisce la visibilità e aumenta la sensazione di controllo. Il comportamento stradale è sicuro, i consumi sono contenuti. Ottime le dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida. Se airbag, le SP, l'assistenza alla partenza in salita, il controllo di trazione, il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici, il sistema di frenata assistita e ovviamente l'ABS e l'EBD. La versione classi include inoltre di serie Cruise Control, cerchi lega da 18, Kia Media Box Radio, collettore CD MP3, prese AUX e USB con set altoparlanti, Bluetooth e comandi audio al volante, sensori di parcheggio e telecamera posteriore, climatizzatore automatico, scomparto porto oggetto refrigerato, smart key button, luci LED di urna e luci LED di posizione, barre e portatutto longitudinali, alza cristalli elettrici anteriori e posteriori. Inoltre la vettura in offerta prevede il bellissimo tetto panoramico che dona luminosità all'abitacolo. La Kia Sportage 2015 1007 Diesel Class con tetto panoramico è disponibile presso la nostra concessionaria in offerta a 21.000 euro. Garantiamo il prezzo più basso d'Italia.